Dov'è? Angelo! Sì? Marco! All'avete possiamo andare con tutte le mani! Tutti in giro! Erano esistenze E' un po' di fax Che c'è un'esercito Con la sgoma Spillone la maggiore L'auto Facciamo il po' Ehi Facciamo il po' Model a mano Dovete Donate Le istituzioni Dovete Marta Anta Secondo me è normale che ci fanno, perché non è che poi si sfezzano qua. Non vengono, non vengono. Noi, sono io, sono io, sono io. un po' di maggiori Buongiorno